A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davidis, amici di Retta 7, nel post Pasquetta ulteriore peggioramento. Avremo infatti un martedì caratterizzato da maltempo su buona parte del nord, buona parte del centro ed in effetti guardate avremo piogge a tratti anche di moderato, forte intensità, non escludiamo anche qualche fenomeno temporalesco, dei temporali per intenderci, nevicate però a quote molto elevate, oltre 1700-2000 metri, quindi una giornata davvero brutta con l'ombrello che sarà indispensabile quasi ovunque. C'è poco da dire, la grafica è molto molto chiara. Andiamo a vedere le temperature, prima di concludere iniziamo dalle temperature minime, attorno ai 9-12 gradi, non sono particolarmente basse, attorno ai 13-14-15 gradi invece sulla costa in Liguria, sono un po' più basse invece rispetto alle ultime giornate, le temperature massime, perché? Perché ci saranno le nuvole, perché ci sarà la pioggia ed in effetti avremo temperature massime comprese tra i 13 e i 18-19 gradi centigradi, quindi quasi ovunque al di sotto dei 20 gradi. Per il momento è tutto, buon proseguimento, arrivederci!